ciao amici parlanti di lingua portoghese volevo chiedere personalmente a ciascuno di voi hai un talento naturale che cosa sei bravo o brava a fare no non sono a caccia di talenti ma vi volevo far conoscere un'espressione in italiano che potete usare quando volete dire che avete un talento naturale d'ora in poi parlerò un po in italiano un po in portoghese ok in italiano può dire essere portato per qualcosa essere portato per qualcosa verbo essere nel tempo e persona di sua preferenza portato che varia in genere e numero mascolino portato femminino portata ai no plural portate e portate e femminino mais o a proposição per mais o artigo e mais o substantivo explicado assim parece difícil né mas vamos aos exemplos você vai ver que é muito fácil os exemplos serão no presente no presente indicativo sono portata per la danza sei portato per lo sport lui è portato per le lingue o lei è portata per le lingue o lei è portata per le lingue o lei è portata per le lingue noi siamo portati per gli studi voi siete portati per la matematica e loro sono portati per la musica è sempre necessario è portato per le lingue è portato per le lingue è portato per le lingue siamo portati per le lingue siamo portati per gli studi siete portati per la matematica e sono portati per la musica è facile interessante né essere portato per qualcosa sapete come è contrario di essere portato per qualcosa? è essere portato per qualcosa? è essere negato per qualcosa essere negato per qualcosa sono negata per la danza? giochi a calcio? no sono negato per qualsiasi sport lui è negato per le lingue lei è negata per le lingue? siamo negati per gli studi? siete negati per la matematica? e sono negati per la musica? non mi piace tanto alla parte dell'essere negato per mi piace di più essere portato per ma adesso vorrei sapere da te perché cosa sei portato? e visto che ci siamo perché cosa sei negato? perché cosa sei portato? perché cosa sei negato? scrivi nei commenti e ci vediamo prossimamente ciao